Salve ragazzi e bentornati sul canale. Nel video di oggi vedremo come registrare il desktop del nostro computer su Windows 10. Prima di continuare assicuratevi di lasciare un mi piace al video ed iscrivervi al canale per seguire il nostro lavoro. Non perdiamo altro tempo ed iniziamo. Come registrare il desktop su Windows 10? Esistono diversi metodi per registrare lo schermo del nostro pc. Oggi ve ne mostreremo tre. Metodo 1 Xbox Game Bar. Windows 10 ha una Xbox Game Bar con una feature per la registrazione dello schermo. Apriamo il menu start e digitiamo Xbox Game Bar. In alternativa clicchiamo il tasto Windows e la lettera G contemporaneamente. Spuntiamo questa casella per acquisire lo schermo. E la procedura nel caso si registri un videogioco o una qualsiasi altra app. Il prossimo passo è cliccare sul pulsante di registrazione o premere contemporaneamente i tasti Windows Alt e R per avviare la cattura dello schermo. Per fermare la registrazione clicchiamo su questo pulsante o in alternativa digitiamo la combinazione di tasti Windows e G. Ed è tutto il nostro video sarà salvato in formato mp4 in una cartella chiamata cattura. Metodo 2 PowerPoint. Il software Microsoft PowerPoint contiene una funzione dedicata alla cattura dello schermo. Apriamo il software PowerPoint e apriamo una nuova o esistente presentazione e clicchiamo in alto su quest'opzione per registrare lo schermo. A questo punto potremo selezionare l'area dello schermo da registrare. Audio e puntatori sono registrati di default ma possiamo scegliere di nasconderli. Clicchiamo sul pulsante registra o clicchiamo il pulsante Windows Shift e R per iniziare a registrare. Lo stesso comando può essere usato per mettere in pausa. Quando saremo soddisfatti clicchiamo il pulsante stop o i tasti Windows Shift e Q per fermare la registrazione. Salviamo la registrazione cliccando con il tasto destro del mouse sullo shot e selezionando salva media come. Scegliamo dove conservare il video e clicchiamo su salva. Questo è ciò che serve per acquisire lo schermo con PowerPoint. Metodo 3 Demo Creator. Esiste un software Wondershare chiamato Demo Creator. Un software editing video particolarmente ben fornito e intuitivo che può essere usato per la registrazione dello schermo. In descrizione troverete il link per il download del software. In alternativa visitate la pagina ufficiale di Wondershare per informarvi di più su Demo Creator e altri programmi. Vediamo come usare il software per acquisire lo schermo. Apriamo Demo Creator e clicchiamo su nuova registrazione. Questa funzionalità consente di registrare lo schermo, l'audio e la webcam allo stesso tempo. Una finestra pop-up apparirà e di default Demo Creator registrerà uno schermo di medie proporzioni. Per personalizzare la registrazione non dovremo fare altro che trascinare i bordi a nostro piacimento. Cliccando sull'icona plus al centro potremo trascinare l'intera inquadratura. Attraverso questa finestra possiamo personalizzare l'area di registrazione, frame rate e come potete vedere abbiamo l'occasione di spuntare cosa vogliamo conservare della registrazione, ovvero audio e webcam. Clicchiamo quindi sul pulsante rosso per iniziare a registrare quando saremo pronti. Vi ricordo che Wondershare Demo Creator è offerto sì in una versione di prova gratuita, ma ha due versioni a pagamento, una annuale e una permanente. Quell'annuale costa intorno ai 30€ e deve essere rinnovata ogni volta che scade, mentre la permanente che costa attorno ai 50€ dura per sempre e vale per un solo computer. Abbiamo visto tre metodi per registrare lo schermo del nostro pc. Nella speranza che il video vi sia piaciuto vi invito a lasciare un mi piace e ad iscrivervi al canale per non perdervi i nostri tutorial futuri. Noi ci vediamo al prossimo video, a presto!